Assessore, come diceva, non l'ho sentita. Diceva che negli ultimi tempi io mi affanto, io mi affanto, mi viene l'affanto a organizzare questa cazza di via Crucis, sempre per fare ogni corina, per andarmi a pagare, ad aggregarsi in questo paese, che cazzo si deve fare, io ho una vita, io sono rimasto singolo, per io mi sono dato, mi sono frascato, mi sono offerto, mi sono interpidato, per l'uomo c'è, non sono a capire per regare dove c'è in questo paese. Non ci rendo quella di locusano, che ogni mattina arrazzandosi e guardandosi allo specchio, rinnova la nuova sull'esito, quanto cazzo bevuta io.